Io mi sento un leghista a tutti gli effetti. Continua a spiazzare i suoi interlocutori, il presidente della provincia Leonardo Muraro, espulso dalla Lega dopo aver scelto di correre alle regionali con Flavio Tosi, escluso in extremis da Palazzo Ferrofini, deve fare ora i conti con i malumori nella sua maggioranza. I consiglieri del Carroccio si riuniranno la prossima settimana al K3 per fare il punto sul futuro della provincia, che dovrebbe andare a scadenza naturale nel maggio del prossimo anno. Muraro non si sente però in odore di sfiducia. Sentendo i capigruppo come abbiamo condiviso la cosa, mi sembra che sia una cosa abbastanza condivisa che è quella di proseguire. Sappiamo che so che in politica tutto è possibile, ma però io sono estremamente, anzi tantissimo sereno e per cui credo che si continuerà in questo momento di difficoltà a dare quelle che sono quelle minime risposte che possiamo dare alle utenze. Di pari passo con la trasformazione dell'ente di Sant'Artemio da soggetto politico a struttura essenzialmente amministrativa ecco il nuovo sito web. Consultabile anche da smartphone, consente i pagamenti online ed è del tutto accessibile anche agli povedenti. Siamo partiti col pagamento online che significa far risparmiare tempo ai cittadini che devono pagare delle sanzioni e quant'altro, ma soprattutto anche diminuire l'inquinamento andando nelle attività principali della provincia che è quella dell'ambiente. Per cui sicuramente una cosa, un sito molto accattivante, fatto in casa, lo preciso, con il nostro personale per cui ha avuto di grandissimi risparmi. Consultabili anche concorsi e bandi, come quelli indetti per la terza volta per la vendita di ex provveditorato ed ex brefotrofio all'importo di 2 milioni e 600 mila euro ciascuno. Ci auguriamo che perlomeno con il ribasso del 35%, ultimo ribasso appunto ci sia qualche avveduto imprenditore che possa veramente prendersi qualcosa che è molto molto anche bello. Credo che la cume e le idee dei nostri avveduti imprenditori possano veramente creare dei business importanti ma luoghi piacevoli per le persone che vogliono vivere in serenità.